Vzlog! Allora, a prevenzione del video di oggi, voglio dirvi che sul sito Ipampli che trovate il linkato e il link iscritto qui sotto ci sono tutte quante le magliette in catalogo a 10 euro e 90 ce ne sono tantissime, molto carine, mi hanno tenuto impressione alcune di quelle più interessanti in catalogo al momento secondo me e se al vostro acquisto aggiungete un paio di calze alla vostra scelta e usate il codice VILASZLO le calze non le pagate, quindi se vi interessa per te lo so fuori, però vi ricordo che sono aperti i preordini del mio libro Cosa guardo? Un emozione del cinema, in descrizione trovate il link per preordinarlo da Amazon, lo trovate anche su altri store digitali ed è un libro di consigli sul cinema diviso in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad uno stato d'animo e per ogni stato d'animo ci sono 10 consigli tra film e serie accompagnati ciascuno da una recensione, un tomo di circa 450 pagine e tra qualche settimana inizio anche con il tour nelle librerie, quindi vi farò sapere, ci saranno anche degli ospiti oltre a me in ogni presentazione, per cui stay tuned Detto questo, bando alle ciance, iniziamo subito con il video di oggi Sigla! Allora, oggi mi sono avvicinato un po' di più ai 40, visto che compio 36 anni e il regalo ve lo faccio io, nel senso che credo che questo video sia uno dei più attesi nell'ultimo periodo perché da giorni non faccio altro che ricevere richieste di parlare di una certa serie di prime video mi riferisco a Asbin Hotel, ne stavo sentendo parlare già da qualche giorno, mi sono preso il mio tempo per guardarla comunque non è una serie particolarmente lunga, sono 8 puntate da circa 24 minuti ma sarebbe bene guardarsi prima di iniziare la serie il pilota, l'episodio diciamo 0 che si trova su YouTube e che è lì già da un 3-4 anni circa Asbin Hotel è una serie, un prodotto creato da Vivienne Medrano la Medrano aveva caricato questo pilota di circa 36 minuti che si trova anche doppiato ma sono dei fan dub, cioè doppiaggi fatti dai fan in realtà ci sono delle retcon dal pilota alla serie ma comunque consiglio di guardarlo perché alcuni personaggi sono introdotti direttamente nei pilota ed effettivamente ci sono dei riferimenti che vengono fatti da alcuni di loro a qualcosa che era accaduto nell'episodio che non potete conoscere se non l'avete guardato da YouTube in realtà parte tutto da lì, se esiste la serie è per via del fatto che la Medrano aveva caricato questo video di più di mezz'ora che per YouTube aveva una qualità veramente eccezionale poi se guardate la serie, guardate il pilota, le animazioni sono anche migliorate anche se a essere sincero lo stile è leggermente più sporco del pilota a me piaceva di più però capisco che poi quando vai su una piattaforma come Prime Video comunque ci sono tante altre persone coinvolte devi avere magari uno stile leggermente diverso, devi aumentare la qualità però a me è quello stile un po' più leggermente sporco perché poi più o meno è simile si vede comunque che non c'era un team di produzione come quello che c'è stato per la serie ovviamente e anche a livello di doppiaggio di voice acting nella versione inglese devo dire che avevano fatto un ottimo lavoro e io mi sono innamorato di Azbin Hotel e per chi mi segue da tanto tempo questa frase potrebbe sembrare strana perché Azbin Hotel è una serie musical, ci sono uno o due canzoni a puntata, dipende, di solito due in realtà per essere puntate da 24 minuti diciamo che quasi 5-6 minuti complessivi di canzoni ci sono e quindi perché mi è piaciuta? Perché le canzoni sono stupende, non le ho trovate troppo ingombranti servono a mandare avanti la trama ma soprattutto la trama è talmente coinvolgente che francamente anche se si tratta di base di un prodotto musical la cosa non mi ha disturbato poi ripeto la qualità dei testi e delle musiche mi ha conquistato uno dei pochi prodotti musical che sono riuscito a reggere e che mi sono bevuto ho dovuto forzarmi per non guardarla tutta in un giorno l'ho guardata in tre giorni circa perché volevo avere più tempo per metabolizzare ogni singola cosa che vedevo sullo schermo mi interessava ecco e ci sono alcuni personaggi che mi sono piaciuti tantissimo vi dico subito che il mio personaggio preferito è Sir Pensions già dal pilota l'avevo adorato perché è il classico loser il classico villain che in realtà non è un villain un po' patetico che crede di essere potentissimo in realtà non lo è ma che ha una bella evoluzione nel corso degli episodi e poi vabbè è come si fa in un amare Alastor che poi è il personaggio più misterioso, più inquietante quello su cui sappiamo effettivamente di meno e rimane un po' un mistero la sua identità si capisce che riguardo lui c'è molto di più da dire rispetto a quello che ci hanno detto finora quindi attendo in gloria la seconda stagione per vedere un pochino come sviluppano Alastor ma in generale non ci sono personaggi che non mi siano piaciuti devo essere sincero e ho voluto guardarla un po' in inglese, un po' in italiano perché in tanti mi hanno detto mi raccomando dai un ascolto anche al doppiaggio perché è fatto veramente bene la serie è doppiata a Roma ci sono doppiatori di grande peso tra cui Rosso Caputo e Edoardo Stoppacciaro e secondo me l'hanno doppiata benissimo poi io l'ho vista anche in inglese perché abbiamo diversi voice actor diversi attori che danno le voci che sono abbastanza famosi ad esempio Vaghi che è la ragazza della protagonista Charlie è interpretata alla voce di Rosa Beatriz che è la Rosa Diaz di Brooklyn Nine-Nine per intenderci e Husk che è un personaggio affascinantissimo alla voce di Keith David Keith David è un attore americano molto molto conosciuto che ricorderete ad esempio per Essi Vivono era il coprotagonista insieme a Roddy Piper era anche in Community era in Requiem for a Dream insomma è un attore piuttosto conosciuto e mi ha stupito trovarlo in un prodotto come Azbin Hotel che peraltro è una storia fantasy veramente ben congegnata è animazione per adulti quindi è molto volgare ci sono tanti riferimenti al sesso alle droghe un sacco di parolacce e francamente non avendo grandi informazioni perché volevo godermela senza sapere troppo mi sono informato dopo su certe cose non mi aspettavo che fosse così tanto volgare però non lo è mai in maniera gratuita perché comunque d'altronde è ambientata all'inferno quindi i protagonisti sono demoni lascivi e cattivi sono persone che hanno peccato in vita e che sono finite all'inferno per cui ci sta che abbiano un comportamento di quel tipo per cui a me la cosa è anche piaciuta e quello che ho adorato di più è la contraposizione tra paradiso e inferno perché ti fanno vedere che anche all'inferno ci sono creature che non sono poi così cattive mentre in paradiso ci sono creature che non sono poi così buone hanno fatto una cosa un po' la good omens dove quasi quelli del paradiso sono gli stronzi della situazione non che siano cattivi sono stronzi qui c'è anche proprio della cattiveria in particolar modo io ero allibito nel vedere il personaggio di Adamo che a me non la conta molto giusta cioè è un personaggio su cui credo ci debbano dire ancora qualcosa a riguardo poi nei limiti del possibile guardate la serie capite io per tutto il tempo mi chiedevo ma perché Adamo è là cioè perché in paradiso è stronzo è cattivo per cui c'è sicuramente qualcosa in più che noi non sappiamo diciamo che questa prima stagione è un gettare le basi per qualcosa di più grande che arriverà successivamente in seguito io penso la cosa bella è che non ci sono puntate realmente filler ogni episodio porta avanti la trama quindi è una trama orizzontale per chi non lo sapesse le serie con trama verticale sono quelle serie con puntate bene o male autoconclusive dove non c'è una storia che prosegue puntata dopo puntata le serie con trama orizzontale sono quelle invece in cui gli episodi sono collegati da una trama che si dipana puntata dopo puntata ecco è il caso di Azbin Hotel e io francamente prima di guardarla non sapevo bene poi mi hanno detto guarda anche l'Uva Boss che è una serie spin off che si trova su YouTube la guarderò nei prossimi giorni magari se vedrò che è il caso ci faccio un video è sempre ambientata mi hanno detto all'inferno quindi voglio vedere però devo dire che è pieno di personaggi deliziosi io poi ho adorato come hanno reso Lucifero io non mi aspettavo non sapevo bene cosa aspettarmi quando ho visto come era Lucifero ho detto mio Dio ma è geniale questa cosa per cui credo che abbiano fatto veramente un ottimo lavoro lo stile d'animazione è carinissimo mi hanno dato un po' le vibes alla Cartoon Network ma declinato sull'animazione per adulti quindi i personaggi spesso sono molto espliciti penso ad Angel Dust Angel Dust che è lussurioso pensa sempre solo al sesso però poi da un certo momento ecco che ti raccontano qual è il suo dramma peraltro con la bellissima canzone Poison che è una delle più belle secondo me della stagione insieme ed è un mio gusto personale a quella di Lucifero l'ho amata cioè quella è veramente bella però Poison è interessante perché ti parla del rapporto tossico tra Valentino e Angel Dust tra l'altro ci sono un sacco di riferimenti per quanto riguarda i vari personaggi sono tutte informazioni che trovate online ho visto anche dei TikTok a riguardo poi io se vedo un TikTok che mi dà delle informazioni non lo prendo mai per buono e vado a informarmi a vedere se quelle informazioni sono corrette però intanto mi mettono la pulce nell'orecchio e avevo visto il video di questa ragazza purtroppo vorrei dirvi il nome il mio problema con TikTok è che molto spesso magari vedo un contenuto distrattamente passo oltre e poi non lo trovo più non trovo più la persona che l'ha fatto non vorrei dire una scemenza ma mi pare che la ragazza in questione si chiami Clara nel caso scrivete in descrizione qui sotto che aveva parlato un attimino del fatto che alcuni dei personaggi sono quasi tutti in realtà animali antropomorfi e spiegavo il perché per un certo personaggio si fosse scelta quella forma animale distorta sono andato poi a informarmi ed effettivamente sono tutti riferimenti assolutamente corretti e ad esempio Valentino è una falena si capisce poco però a un certo punto apre le ali e le falene non tutte ma una ci sono alcuni tipi di falene che secernano una sostanza che serve ad attirare la preda che è velenosa ed effettivamente Valentino tiene in un certo senso legato a sé Angel Dust grazie a questo fumo rosso che lui secerne che sembra quasi inebriarlo lo vediamo durante la canzone che è un riferimento al modo in cui le falene si procurano il cibo sostanzialmente lo stesso Angel Dust sembra un ragno che tesse la sua tela è subdolo poi in realtà scopriamo che è un po' diverso Serpentious è una sorta di cobra perché è viscido strisciante oppure anche anche la questione di di Ask che è un che è un gatto a me questa cosa piace un sacco perché comunque i gatti sono furbi sanno anche attaccarsi molto alle persone infatti Ask inizialmente non vuole essere lì ma poi si affeziona e poi c'è un personaggio che io adoro che è Nifty che è completamente fuori di testa però mi piace perché è un comedy relief che non è esagerato puntano sempre sul fatto che è mezza matta sul fatto che è violenta però queste cose te le fanno vedere al momento giusto non è mai eccessiva è tutto molto equilibrato se devo trovare un difetto ad Usbind Hotel è più che altro il fatto che otto puntate sono un po' poche per la storia che vogliono raccontare perché inizialmente la serie procede per gradi non sembra che ci sia questa grande trama già la terza puntata capisci che iniziano a inserire cose un po' più grandi di quello che avresti pensato fino ad arrivare al punto in cui la trama non dico che diventa complessa ma è già più intricata di quello che mi sarei aspettato quando mi sono approcciato alla serie ci sono misteri cose da scoprire colpi di scena e il problema è che è tutto molto compresso in episodi che durano anche poco infatti secondo me non è il problema la durata degli episodi secondo me è il numero di puntate che doveva essere aumentato già con 10 puntate secondo me avrebbero potuto espandere un po' di più la narrazione è l'unico vero difetto di Usbind Hotel che alcune cose te le sbattono in faccia puntata dopo puntata in maniera velocissima e fai quasi fatica a processarle per cui sarebbe stato bello avere qualche episodio in più però magari poi con la prossima stagione ne fanno 10 o 12 questa prima stagione era un banco di prova è diventato nel giro di qualche settimana un fenomeno mondiale sui social non si parla praticamente d'altro adesso si parla tanto di Sanremo sì certo e del balletto di Giuntro Volta però fino all'altro giorno si parlava tantissimo di Usbind Hotel io credo che sia realizzata molto bene proprio anche dal punto di vista del modo in cui è animata cioè le animazioni sono sempre molto rapide frenetiche c'è sempre tanto da vedere in scena cioè ti violenta quasi gli occhi tanti colori tanti personaggi in movimento ci sono cioè soprattutto nelle canzoni diciamo che la regia di questo prodotto animato dà il meglio di sé ce ne sono alcune che sono veramente spettacolari e quindi io penso che di cose del genere in televisione se ne vedano molto poche sarebbe bello vedere più prodotti di questo tipo anche perché l'animazione per adulti negli ultimi anni si è espansa molto abbiamo avuto un sacco di prodotti interessanti però qualcosa di questo tipo mancava perché se un ricche morti i griffin paradise police la fub rickleberry un sacco south park hanno delle animazioni che comunque vanno molto verso l'accaparrarsi un pubblico di adulti proprio a livello estetico hazmin hotel prende un'estetica che è tipica dei cartoni animati per bambini prima ho parlato di cartoon network ha quell'estetica lì ed è questo forse il suo punto di forza che a vedere così le immagini non ti aspetteresti che si stia parlando di una serie per adulti perché lo stile non è propriamente quello che associ all'animazione per adulti mi ha ricordato un'altra serie anche per la vulgarità che io guardavo tanto tempo fa su comedy central si parla ormai di quasi 20 anni fa era drone together non so in quanti si ricordano che era una parodia dei prodotti di animazione che era una sorta è anche una parodia del reality show c'erano questi personaggi che erano parodie dei personaggi esistenti c'era la parodia di link di zelda che era omosessuale c'era la parodia di betty boop la parodia di pikachu in questa casa tipo grande fratello ed era spintissima ecco mi ha ricordato un po' quello perché anche quella aveva uno stile animato che ricordava un po' quello dei cartoni animati tipicamente per bambini su canali come nickelodeon o come o come carton network ecco ad bin hotel è più in quella zona lì però rispetto a drone together ha una trama che si sviluppa per tutta la durata nella serie e ci sono tanti interrogativi aperti tant'è vero che io non vedo l'ora che esca la seconda stagione perché sono veramente curioso ci sono anche dei twist molto interessanti per cui se magari non vi siete avvicinati perché siete tra quelli che quando sentono parlare troppo di un prodotto si allontanano io conosco tante persone che dicono le parlano tutti quindi non mi va di guardarlo è una cosa con cui non concordo più le persone parlano di qualcosa e più io dico cavolo devo guardarlo perché se qualcosa conquista la massa è sempre interessante magari poi è qualcosa che non mi piace per l'amor di dio ma se qualcosa scende nella collettività un interesse secondo me è sempre bene capire come mai lo ha fatto per cui se magari eravate scettici su Asbin Hotel il mio consiglio è di guardarlo assolutamente su Prime Video perché è una serie che merita tantissimo e capisco perfettamente perché nel giro di poco si è diventato questo grande fenomeno che è effettivamente diventato quindi adesso parlerò della serie in maniera più spoilerosa più specifica andando in maniera più profondita capire alcune cose per cui se non avete ancora visto Asbin Hotel o non siete in pari non proseguite mi raccomando con la visione del video allora innanzitutto parliamo di Alastor Alastor è un personaggio interessante perché effettivamente lui allora nella serie è già lì in realtà nel pilota è per quello che vi dico guardate il pilota vediamo lui che arriva a dire a Charlie va bene d'accordo allora facciamo che vi do una mano e lui è il demone della radio che è arrivato dal nulla tempo prima all'inferno ha ammazzato alcuni dei demoni più potenti e poi è sparito per parecchio tempo finché non è tornato per per aiutare Charlie e Vaghi per redimere i demoni perché il presupposto è che ogni anno il paradiso invia degli angeli esorcisti a sterminare i demoni in modo che non ci sia una sovrappopolazione all'inferno e non ci siano i numeri per creare un sollevamento nei confronti del paradiso allora la figlia di Lucifero la principessa Charlie decide insieme alla sua compagna la sua ragazza Vaghi di creare questo hotel per redimere i demoni e far sì che possano guadagnarsi il paradiso e per tutta la stagione questa cosa non si sa se funzioni sembra un'utopia finché quando c'è l'attacco finale Sir Penshius eroicamente si sacrifica viene ucciso da Damo e nel finale dell'ultima puntata lo vediamo che compare all'improvviso in paradiso quindi il finale ci dice che effettivamente il progetto dell'Asbin Hotel funziona e i demoni possono essere redenti mi piace tanto proprio il fatto che si parli della linea sottile che separa bene e male e che è difficile trovare bene puro male puro perché a un certo punto c'è una giovane un giovane angelo che si indigna con la sua maestra questo serafino che perché scopre che ha approvato lo sterminio dei demoni all'inferno tra l'altro c'è anche questa cosa interessante nel concetto di rimorte cioè le anime i demoni ma come anche gli angeli possono morire anche se sono già nell'aldilà quindi mi hanno detto che questa cosa viene un attimino affrontata meglio nell'uva boss quindi vedrò però è interessante perché effettivamente è già di per sé intrigante l'idea che anche se sei nell'aldilà puoi comunque morire e quindi c'è la questione dello sterminio all'inizio c'è questa cosa dell'angelo che è stato ucciso e decapitato e nessuno pensava che gli angeli potessero morire e si scopre poi che si possono uccidere con le loro stesse armi l'acciaio angelico può ammazzarli e quindi è interessante perché innanzitutto noi capiamo che Alastor ha un piano superiore che non ha ancora rivelato e alla fine lui si mette contro Adamo ma sta perdendo e quindi deve scappare e alla fine quando i demoni dell'Asbin Hotel hanno vinto la battaglia hanno respinto gli angeli in paradiso uccidendo Adamo peraltro c'è questo momento in cui Alastor cante dice ci deve essere un modo per liberarmi da quel patto quindi probabilmente Alastor ha stretto a sua volta un patto con qualcuno e sta cercando di liberarsi per poi conquistare il mondo parole sue lui stesso ha fatto un patto con Charlie quindi lui è all'Asbin Hotel per un motivo lui vuole usare la figlia di Lucifero per qualcosa perché lui è l'unico ad aver capito che Charlie è molto più potente di quello che può sembrare come si può vedere anche verso la fine Charlie diventa più potente a un certo punto i suoi cuccioli diventano dei giganteschi draghi cambia anche aspetto ma è pur sempre la figlia di Lucifero solo che lei è molto buona crede nei demoni crede nella redenzione quindi non ha mai avuto bisogno di usare il suo vero potere non ci viene neanche detto chiaramente se lei sapesse di essere più potente di quello che fa credere perché sembra quasi un riflesso involontario questa sua trasformazione bellissimo è il fatto che Lucifero stia nel suo antro a fabbricare paperelle di gomma e lui voglia molto bene a Charlie ma ha paura di averla delusa e quindi non si fa sentire spesso e alla fine arriva da lei ad aiutarla e insieme sconfiggono i demoni il momento in cui sconfiggono Adamo con Nifty che poi lo ammazza e lo pugnala mi ha fatto morire da ridere tra l'altro io non mi aspettavo che quella di Adamo fosse una maschera e Adamo è presuntuoso quindi perché Adamo sia in paradiso non è molto chiaro secondo me c'è qualcosa di più anche perché alla fine scopriamo che la madre di Charlie Lilith che era Lilith secondo la cultura pagana era la prima moglie di Adamo la prima a essere tentata dal serpente che poi fu cacciata e venne creata Eva e divenne la sposa di Lucifero hanno mantenuto questa cosa però sono sette anni che Charlie non sente la madre e scopriamo alla fine la scagnozza angelo di Adamo che va da Lilith su questa spiaggia in paradiso e dice tu volevi stare qua tranquilla va bene però se vuoi continuare a star qui devi fermare tua figlia quindi Lilith non era semplicemente scomparsa era riuscita evidentemente a riguadagnarsi il paradiso quindi ci sono tante cose che vanno capite anche perché poi ci dicono che ci sono delle regole in teoria per essere messi in paradiso e effettivamente quando puoi quando poi Serpentius muore va in paradiso e anche qua non è ben chiaro come funzioni cioè è morto e va in paradiso ma se lui non fosse stato buono e fosse stato normalmente un demone dove cazzo sarebbe andato che c'è un altro inferno o i demoni si rigenerano all'inferno e noi non lo sappiamo e non sono mai stati realmente esterminati e magari in futuro scopriamo che da un'altra parte dell'inferno che nessuno ha mai esplorato c'è la comunità di demoni che sono stati sterminati e che si sono rigenerati lì e che cercano di stare nascosti per evitare di rivivere quella esperienza la butto lì perché la logica vuole che se Sir Pentius è morto è andato in paradiso allora se fosse stato cattivo sarebbe ritornato all'inferno in teoria è un po' strana come cosa ma io non credo che sia un difetto o un buco narrativo io credo semplicemente che sia qualcosa che ancora non hanno voluto dirci perché comunque la serie è piena di momenti veramente folli io ad esempio adoro gli ovetti di Sir Pentius mi fanno morire da ridere adoro anche il momento in cui in cui Alastor porta Charlie a reclutare i demoni cannibali che peraltro sono una comunità che al di là del fatto che sono cannibali sono tutti tranquilli sembrano carini cioè non tutti i demoni sono effettivamente cattivi anche questa è la cosa strana cioè tu vedi più cattivere in paradiso che all'inferno a un certo punto e c'è anche questo questo fatto di Vaggy che in realtà è un angelo quel colpo di scena io ho pensato che a un certo punto ho detto ma non è che è Alastor l'angelo io ho detto sarà un angelo invece no l'angelo è Vaggy ed effettivamente a un certo punto anche Carmilla Carmine lo dice quando Vaggy dice come facevi a sapere che sono un angelo tesoro hai una X gigante sull'occhio sai combattere piuttosto bene hai anche un colore della pelle particolare non è che ci vuole una scienza giustamente per cui per Alastor io non saprei bene cosa può essere io addirittura ad un certo punto ho pensato fosse Dio ma perché Dio non viene mai mostrato non viene mai tirato in ballo vediamo solo gli angeli tra l'altro c'è anche una certa conoscenza della mitologia da parte della Medrano perché all'inizio gli angeli sono rappresentati come degli esseri con le ali pieni di occhi perché in realtà se andate a vedere le descrizioni degli angeli nella Bibbia sono degli occhi volanti attorniati da una luce cecante con le ali non avrebbero neanche quella forma umanoide come vengono solitamente rappresentati anche negli affreschi medievali in realtà gli angeli sono descritti come degli esseri effettivamente mostruosi poi nel corso del tempo ecco che gli angeli sono diventati questo un po' come le sirene che inizialmente erano praticamente degli uccelli e poi sono diventate le donne con la coda ma in realtà partono con una descrizione completamente differente quindi questa cosa io l'ho apprezzata moltissimo ho apprezzato il fatto che ci fossero dei riferimenti anche colti alla Bibbia alle varie culture pagane ed è una serie che mi ha anche fatto molto ridere in più di un momento tra l'altro io ho adorato anche il rapporto tra i personaggi il fatto che Serpentius inizialmente è veramente un inetto poi però quando c'è da combattere lui si mette veramente in prima linea ed ha anche un certo contributo cioè è anche coraggiosissimo da povero idiota spaventato che era all'inizio a un certo punto bacia Cherry Bomb e va contro Adamo ma Adamo lo spazza via con l'indice cioè ci mette un secondo a distruggerlo però anche questo bacio proprio da film che dà Cherry Bomb anche la scena la scena in cui sono in discoteca lui vuole provarci con Cherry Bomb che dice volevo offrirti da bene perché voglio offrire da bene a tutti e poi si ripete questa cosa con lui ma ti va di fare sesso con me e lei che dice perché dovrei farlo perché in realtà voglio fare sesso con tutti se lo portano arrivano questi gli argomenti che se lo portano in camera a me quella scena lì ha fatto morire da ridere perché ha proprio dei tempi comici che sono eccezionali secondo me e poi soprattutto ogni personaggio è finemente sfaccettato è forse la cosa che apprezzo di più di Asvin Hotel perché tutti i personaggi hanno una loro evoluzione lo stesso ha la storia effettivamente si evolve perché inizialmente tu pensi che sia solo un demone cattivo che vuole divertirsi invece capisci piano piano che ha qualcosa in mente lui sta cercando di liberarsi da qualcosa ma non si è capito bene cosa tra l'altro a un certo punto ti fa anche capire che Husky inizialmente era lì perché ha dovuto obbedire a Alastor in quanto è legato ad un patto con lui ha ceduto l'anima invece Charlie quando fa il patto con Alastor per avere l'esercito e non farsi distruggere l'hotel e perdere la vita sia lei che i suoi amici stringe un patto per cui lei dovrà un favore ad Alastor quando lui lo chiederà quindi non hanno messo l'anima al centro di questo patto il punto è quale sarà questo favore perché il favore potrebbe essere uccidere Lucifero potrebbe essere fare qualcosa di terribile perché Alastor ha chiaramente bisogno di qualcosa che forse però è molto più grande di quello che si potrebbe pensare io mi sono un po' lambiccato il cervello nell'ultime ore l'ho vista stanotte la puntata quindi ci ho pensato bene che cosa potrebbe volere Alastor con chi può averlo fatto il patto a questo punto io ritorno parzialmente sulla mia idea io non vorrei che lui veramente è legato a Dio o che era un angelo o magari si scopre che era Metatron che cazzo ne sappiamo boh cioè secondo me lui era un pezzo grosso perché il punto è che lui è arrivato all'improvviso lui è arrivato all'improvviso e poi quando ha sconfitto i demoni che aveva sconfiggere si leva dal cazzo per un po' come mai perché questo reclama un dominio specifico al di là dell'Hasbin Hotel secondo me lui ha qualcosa in mente perché è stato ingannato e sta cercando di riprendersi la sua anima non lo so la sua la sua libertà sicuramente quindi chissà so che ci sono tante teorie su internet però è difficile perché effettivamente non è una cosa così secondo me è semplice da da identificare perché comunque è un personaggio veramente enigmatico io adoro anche il fatto che sorrida sempre lo dice anche lui se tu sorridi sempre destabilizzerai i tuoi nemici e ci sono dei momenti c'è anche il momento in cui Adamo gli spacca il bastone per un istante lui inizia a parlare senza la voce radiofonica perché è geniale anche il fatto che Alastor parli come se la sua voce venisse da una vecchia radio perché lui è il demone della radio che trasmetteva le urla dei suoi nemici sconfitti mentre morivano attraverso questa questa trasmissione radio che trasmetteva solo quello all'occorrenza e poi ci sono anche gli altri personaggi come per appunto Valentino già citato Vox che è proprio contrapposto a Alastor perché Alastor è il demone della radio l'altro invece è il demone della tv sono i V sono i tre personaggi con il nome che iniziano per la V che sono quelli che stanno spadroneggiando di più all'inferno però poi ci sono anche altri demoni che sono affascinanti come Carmilla Carmine Zestial anche Zestial che è comparso pochissimo ma mi ha mi ha veramente per qualche motivo affascinato si compare poco canta una canzone poi non lo vediamo più per tutto il resto della stagione lo vediamo in una sola puntata ma mi è rimasto fottutamente impresso tra l'altro se voi andate a vedere alcune descrizioni di demoni nella Bibbia di dipinti che sono stati poi basati ci sono alcuni demoni che troviamo in Azbilontel si sono ispirati alle descrizioni di alcune creature demoniache dalla Bibbia o da altri culti questa cosa è fantastica cioè si vede che c'è un grande lavoro di ricerca dietro e che la Medrano non è che sia inventata qualcosa tra l'altro il suo lavoro su questa lore era iniziato mi dicono già molto tempo fa quando ancora lei studiava con dei fumetti che sono come dei prequel di El Uva Boss e di Azbilontel poi ha fatto per appunto El Uva Boss cioè Azbilontel e El Uva Boss a livello diciamo più social su YouTube e poi è arrivata sono arrivati quelli tra l'altro una cosa che non ho detto è coprodotta da 24 come sempre del resto quando c'è una roba figa a merda c'è sempre di mezzo da 24 ultimamente e infatti quando io ero un po' scettico nel senso detto lo guardo proprio non so se il mio genere mi hanno detto con musical nel momento in cui comp che è la prima cosa che compare il serpente che forma la scritta 24 ho detto basta mi avete convinto sono vostro fate di me quello che volete guarderò qualunque cosa mi propinerete perché è una delle pochissime case di produzione di cui io a prescindere ho sempre voglia di vedere qualcosa perché sia a livello cinematografico che televisivo fanno sempre delle robe splendide e infatti Asbin Hotel è fantastica per cui è veramente una serie anche molto originale molto diversa rispetto al solito è un altro modo di fare animazione per adulti perché di solito l'animazione per adulti è sempre molto secca cinica e cattiva Asbin Hotel è per adulti nel modo in cui i personaggi si comportano per la violenza perché c'è tanta violenza ovviamente cartunesca in scena ma poi è dolcissima è una serie che ti fa riscoprire il valore dell'amicizia dell'avere una seconda possibilità del fatto che le persone possono effettivamente cambiare se lo vogliono del fatto che a volte credere nelle persone non è una cosa sbagliata quindi è una serie anche che ti porta avanti dei messaggi dei valori molto importanti che sono più tipici delle serie per ragazzi e per bambini però rimane una serie per adulti mi piace questo ibridare da una parte ha dei contenuti che non sono per niente per bambini e ragazzi dall'altra invece ha quei contenuti più tipici di quel tipo di prodotto e non è facile mescolare queste due cose riuscendo a creare un prodotto che sia effettivamente efficace e io questa cosa l'ho apprezzata tantissimo per cui è una serie che secondo me andrebbe vista da tutti e che è diventata così famosa per un motivo perché comunque alla fine tu la guardi e pensi beh per forza che è diventata famosa ma che roba una qualità incredibile a livello di animazione di disegni di colori i colori sono fantastici tutti sul tono del rosso perché siamo all'inferno poi vampere di riso sono tutti sul tono dell'azzurro ma tra l'altro non è che non è che ti rappresentino così bene questi luoghi cioè alla fine dell'inferno noi conosciamo una piccola parte noi vediamo solo degli scorci ogni tanto vediamo delle zone però non è che ti faccia questo grande approfondimento sull'inferno sono più che altro in luoghi al chiuso di solito i personaggi stessa cosa è il paradiso ti mostro uno scorcio e poi vai subito al tribunale anche questa cosa è fantastica anche il modo in cui Charlie perdona Vaghi per non averle detto di essere un angelo avviene per merito di un demone il demone capo dei cannibali questa donna vestita come se fosse nell'ottocento è un personaggio importante perché è un demone dovrebbe essere una cattiva ma è lei a far riscoprire a Charlie il valore del perdone dice ma non pensi che magari lei non te l'ha detto perché si vergognava ad ammettere che era uno degli angeli che hanno sterminato parte della tua gente tu non fa che ripetere che quella è la tua gente come salvare la tua gente e lei dovrebbe star tranquilla nel dirti che era un angelo sterminatore magari si vergogna lei di se stessa e quindi se si vergogna lei di se stessa chissà come può pensare cioè come come si può pensare che tu che non ci sei dentro possa perdonarla e lì lei capisce che era il caso di perdonare Vaghi perché perché lei non è cattiva anzi lei era un angelo del paradiso che si è reso conto che quello che facevano era sbagliato quindi nel paradiso c'è del marcio assolutamente però fa tutto piano del fa tutto parte del piano divino perché poi Serpentius muore pum va in paradiso uguale a prima ma bianco con i vestiti bianchi quindi questa cosa è fantastica tra l'altro Serpentius sembra quasi la parodia di un cattivo alla James Bond se ci pensate con gli scagnozzi questi uvetti che mi fanno morire da ridere questi minion che che per l'appunto sono scemi no cioè il momento in cui il minion il minion che ha scoperto che hanno ammazzato un angelo che l'ha riferito a Alastor che dice a Serpentius la signora demon ha ammazzato un angelo con un coltello e lui dice sì ma certo che l'hai fatta certo e dormono poi qualche puntata dopo si scopre e dicono a Serpentius ma come tu lo sapevi ma cosa ne so io loro dicono sempre un sacco di cazzate e subito dopo lo metto e dice i conti correnti sono una truffa delle banche per ordine del nuovo ordine mondiale del governo ombra e lui dice vedi ed effettivamente fa morire da ridere perché questi qui sparano sempre queste cazzate complottiste anche sta cosa è geniale quindi secondo me è una bellissima serie con tanti personaggi che non si può non adorare io so che tutti impazziscono per Angel Dust a me piace molto anche il fatto che Angel Dust è praticamente un pornoattore gay che è costretto a fare sesso tante ore al giorno facendosi anche purtroppo a volte violentare contro la sua volontà perché ha fatto un patto con Valentino e tra l'altro ti fa capire chiaramente che lui si è costruito questa corazza per far credere che lui piaccia essere così russurioso ma in realtà non è così oltretutto si crea questo bel rapporto tra lui e Ask perché Ask è l'unico che riesca a vedere dietro alla corazza che Valentino si è creato e a capire che lui in realtà sta male veramente e scopriamo lì che anche Ask è legato ad Alastor e quindi ha perso la sua anima quindi forse lui è l'unico tra tutti che può veramente capire quanto stia male quanto stia male Angel Dust tra l'altro prima parlavo di Alastor così vado in conclusione è vero che Alastor ha un piano probabilmente malefico però lui si sta sinceramente affezionando alla popolazione dell'hotel e che parlando con Nifty dice beh sì dai alla fine credo che sia una compagnia anche piacevole che per uno come Alastor è quasi una missione gigantesca di affetto per cui è un personaggio che anche lui si sta evolvendo molto ma sono curioso di sapere che cosa avrà in mente io vado sempre col fatto che è qualcosa che riguarda Dio io sono convinto che lui ha fatto un patto con Dio ma secondo me lui faceva parte del paradiso in qualche modo io dico Metatron perché è uno delle massime autorità secondo me è qualcosa di molto vicino a Dio non era perché uno dice ma non è un po' uguale a quello che ha fatto Vaghi secondo me no perché lui secondo me è una massima autorità che è stata mandata all'inferno per qualcosa che è successo io ho questa impressione qua quindi fatemi sapere voi cosa pensate di Arsvin Hotel sono molto curioso io vi abbraccio vi ringrazio grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo Vue Vlog ciao a tutti